Un corpulento detective del dipartimento di polizia di Los Angeles, a fine carriera, subisce due lutti gravissimi. La moglie e il figlio muoiono a causa di un incidente automobilistico. La dinamica dell'incidente non è chiara e spingerà il detective a lasciare il suo lavoro e a mettersi in proprio, anche solo per poter indagare con più libertà. Questo è l'incipit di un poliziesco molto particolare che, nonostante non sia mai arrivato nella top ten dei telefilm visti d'America, si è ritagliato comunque un posto nel cuore di molti fan. Dopo la sigla, vi parlerò di Canon. Confesso che Canon è stata una delle prime richieste che mi sono state fatte sul canale. Purtroppo le notizie su questa splendida serie sono poche e di difficile reperimento. C'è voluto quindi un bel po' di lavoro e di ricerca e un pizzico di fortuna per arrivare ad avere abbastanza materiale da poter imbastire un video dedicato al telefilm. Sto pensando quindi di creare un nuovo format dove unisco più serie e minori in modo da poter trattare anche telefilm rari, ma che comunque vale la pena recuperare. Fatemi sapere nei commenti se l'idea vi piace o se avete altri suggerimenti in questione. Detto questo, parliamo di Canon. In verità, non si può parlare di Canon se non si cita prima il suo demiurgo, ovvero Queen Martin. Martin non è un semplice produttore, è probabilmente il più grande ideatore e produttore che la tv americana abbia mai avuto. Dal 1959 al 1980, per ben 21 anni, non c'è stato un anno in cui non ci fosse una sua serie a contendersi il prime time. Basterebbe citare il Fuggiasco, serie che per 13 anni ha mantenuto il record di puntata più vista in America, collezionando il 72% di Cher, a darvi un'idea della sua grandezza. Ci vorranno prima Dallas e poi l'ultima puntata di Mesh per poter superare quell'incredibile risultato. Ecco, basterebbe quello, ma il Fuggiasco è solo la cima di un iceberg immenso, la cui base è formata da telefilm del calibro degli intoccabili, le strade di San Francisco, the FBI e molte altre? Come potete intuire dalla piccola lista che vi ho fatto, la sua specialità erano i polizieschi. Polizieschi duri, realistici, dove il crimine era spietato, ma la polizia spesso era anche peggio. Quindi, quando nel 1970 approdò la CBS, dopo una sfilza incredibile di successi alla ABC, la rete gli diede carta bianca purché il progetto fosse un telefilm poliziesco alla marketing. Quinn, che voleva esplorare altre strade narrative, non fu entusiasta della cosa, però decise che comunque poteva accettare la sfida. Quindi, se doveva fare un poliziesco alla sua maniera, lo avrebbe fatto creando il personaggio più improbabile da usare come protagonista. L'idea di base era quindi quella di fare un poliziesco tutto azione con l'attore meno adatto alla parte. Scelsi allora William Corrad. Corrad era stato un divo dei serial radiofonici, si stima che in carriera abbia prestato la sua voce a non meno di 7500 personaggi. Con l'avvento della TV riuscì inizialmente a sopravvivere, soprattutto facendo la voce narrante all'inizio degli episodi, cosa che era molto in voga negli anni 50 e 60, e facendo appunto la voce narrante che apre gli episodi del fuggiasco, che Corrad conosce Martin. Nel 1970 Corrad aveva abbandonato da tempo la sua carriera attoriale per dedicarsi esclusivamente alla regia. Nonostante tutto a 50 anni suonati accetta l'offerta di Martin e torna a fare l'attore. Quindi con l'approvazione della rete, Martin inizia a girare il pilot. Quando però Fred Silverman, dirigente della CBS e responsabile del progetto, vide i primi giornalieri biancò. Martin allora gli chiese cosa è che non andasse, e Silverman esclamò, ma chi è quel ciccione che corre per tutto il tempo? Martin Serafico gli risponde che quello era il protagonista. Silverman furioso allora gli intimò di cambiare attore perché con quello la serie non si sarebbe fatta mai. Quello che Silverman non sapeva però è che Martin, da produttore navigatissimo, aveva già parlato con William Peley, allora presidente della rete che, essendo fan di lunga data di Corrad, aveva dato l'ok al progetto. Fortunatamente per Silverman, Corrad non aveva problemi ad accettare la sua condizione e anzi spesso ci scherzava su. Tanto che anni dopo quando Silverman iniziò una sua carriera di produttore, lo volle come protagonista di una sua serie, Jake and the Fat Man, da noi conosciuti con il titolo I Due Come Noi. Cannon non andò male, ma non sfondò mai veramente. Per le prime quattro stagioni navigò tra il ventiduesimo e il venticinquesimo posto della classifica dei telefilm più visti d'America. Il cast non prevedeva quasi nessun altro personaggio fisso oltre al protagonista. Nella prima stagione in effetti fu fatto il tentativo di introdurre un nuovo personaggio, Jerry Walton, interpretato da Martin Sheen, ma evidentemente la cosa non deve aver funzionato perché dopo solo due puntate il personaggio scomparve e non tornò mai più. Nella quinta stagione, visto il calo di ascolti, si iniziò a dissipare il mistero della morte dei suoi cari. Mistero che generò una specie di trama orizzontale, cosa assai rara nei telefilm dell'epoca. Ovviamente per evitare gli spoiler non vi dico come finisce visto che nelle ultime puntate finalmente Cannon catturerà il colpevole. E ora, come di consueto, alcune curiosità sulla serie. La famosa auto che il nostro corpulento detective guida è una Lincoln Continental. Inizialmente il modello è la Mark III che però viene distrutta da alcuni cattivi che cercano di intimidirlo. Nella seconda stagione quindi guida una Mark IV. Nel finale dell'ultima stagione sembra passato la Mark V, ma questa cosa è impossibile visto che il modello sarebbe stato introdotto solo l'anno dopo. La macchina in verità è una Mark IV modificata in modo da pubblicizzare il modello nuovo in uscita. Evidentemente lasciare la polizia e mettersi in proprio a livello economico è convenuto a Cannon, visto che oltre a sfoggiare un telefono in auto, cosa assolutamente rarissima all'epoca, il suo appartamento è dotato addirittura di un poligono di tiro. John Parker, ideatore della sigla, ha anche composto il famoso motivetto fatto con gli strumenti affiato che sottolinea l'andatura di Cannon quando cammina. La serie è ambientata a Gallatin e a Water Springs, nella contea di Coffin. Le due città e la contea sono fittizie, ovvero esiste una contea di Coffin ma è in Kansas e non in California, dove è ambientata la serie. Nelle prime due stagioni Cannon fuma regolarmente la pipa, dalla terza in poi questa sua caratteristica scompare per sempre. Cannon compare nella prima puntata di un altro telefilm prodotto da Marty, Barnaby Jones. Questa doveva essere una puntata di Cannon, ma Martin sviluppò l'idea del personaggio di Barnaby Jones fino a renderlo una serie a sé stante che poi vendetta la CPS. A quel punto la puntata fu messa in naftalina e utilizzata come prima puntata del nuovo telefilm. I due personaggi si incontreranno di nuovo in un episodio in due parti dove Barnaby Jones aiuterà Cannon in un suo caso dove è coinvolta una multinazionale. Come era prassi dell'epoca, la prima parte della storia compare su Cannon, se la volete recuperare la seconda puntata della quinta stagione, mentre la seconda parte compare su Barnaby Jones. La puntata in questione che nelle due serie hanno lo stesso titolo è The Deadly Cospiracy. Se vi siete chiesti di che marca fosse il telefono di Cannon, quello che usava in macchina, è un Motorola. La prima ditta in America a lanciare questo servizio, il telefono portatile, se così lo possiamo definire, alloggiava nel portabagagli e pesava la bellezza di 36 kg. Anche per questa volta è tutto, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi. Come sempre, se volete che parvi del vostro telefilm preferito, chiedetemi oppure nei commenti.